Che i giovani cristiani siano sempre meno è un mantra che la società si ripete da tempo autoconvincendosi della propria secolarizzazione. Certo, del vero c'è e i numeri purtroppo parlano chiaro, ma la gioventù cristiana non è dentro l'abisso della non esistenza come si vorrebbe far credere. Al contrario, è animata da picchi di interesse e di partecipazione, perché, come dice Papa Francesco, l'incontro con Gesù cambia la vita. Nessun ragazzo infatti vorrebbe vivere una vita vuota e frivola. Cristo riempie la vita della verità piena e dà senso a ogni nostro passo. Accogliere Cristo e farlo con tutto noi stessi, questo inoltre è il tema di uno degli eventi più grandi e più attesi della gioventù cristiana di tutto il mondo, la giornata mondiale della gioventù. Per la 37esima edizione, che quest'anno si svolgerà a Lisbona e in Portogallo, il Papa ha infatti scelto come citazione da cui partire per riflettere un passo della visitazione del Vangelo di Luca. Maria si alzò e andò in fretta. A partecipare a questo mega evento sono attesi tantissimi giovani. Si parlavano in primo momento di quasi due milioni, ma ad oggi gli iscritti sono solo poco più di 310 mila, il che però non sminuisce l'importanza dell'evento. Anche da Biella partirà una delegazione di giovani, capitanata dal vescovo Roberto Farinella e dai sacerdoti ed educatori della pastorale giovanile. Saranno 261 i giovani biellesi che partiranno per Lisbona fra pochi giorni. Il gruppo si dividerà in due in base alla data di partenza. Una prima parte partirà il 24 luglio in Pullman, alla volta di Lisbona, facendo tappa a Lourdes, Coimbra e Fatima. E la seconda parte partirà il 29 luglio saltando la tappa di Coimbra. Proprio qui a Coimbra avverrà il gemellaggio fra la diocesi di Biella e quella con Imbricense. Dal 1 al 6 agosto i giovani biellesi saranno a Lisbona per vivere il clou dell'evento con la partecipazione del Santo Padre. Il momento che tradizionalmente rimane più impresso nei cuori dei ragazzi è la veglia serale prevista per sabato 5 agosto. Una celebrazione che toccherà profondamente tutti i partecipanti e che sarà occasione per maturare in Cristo. Già perché la giornata mondiale della gioventù non è solo bandiere colorate, musica, notti in bianco, amicizia e compagnia. È anche il momento in cui si incontra Cristo, chi per la prima volta, chi dopo un momento di spaisamento, chi per rinnovare la sua fede quotidiana. Sono tantissime le testimonianze di conversione a seguito delle giornate della gioventù. E questo è il primo dei miracoli e il più importante, quello che dà nuova linfa alla Chiesa di Cristo.